Ben trovati i radici della mobilità al via la trasformazione del deposito di Porta Maggiore che sarà adeguato per ospitare i nuovi tram da 33 metri. L'attività procederà con i lavori in corso lungo tutta l'infrastruttura e accompagneranno il processo di rinnovo della rete tram. Le modifiche sono previste dal 1 luglio al 2 dicembre per tutto il servizio tramviario. È prevista la sostituzione integrale delle linee tram con bus dalla seconda metà di settembre ai primi di novembre. Nel periodo del lavori fa sapere Ata che in una nota l'articolazione delle linee dipenderà dalla tipologia ed estensione degli interventi necessari oltre che dalla operatività disponibile del deposito di Porta Maggiore.